Quando arriva l'insicurezza o i bassi livelli di autostima, dobbiamo cercare sempre di trovare in noi la forza per riprenderci, per regalare quella stima a noi stessi che tanto meritiamo e togliere quell'insicurezza che proprio non meritiamo. I primi su cui bisogna contare non dobbiamo mai dimenticarcelo, dobbiamo essere noi stessi, da qui dentro si costruisce la nostra forza. Devi tenere sempre duro, non mollare, non mollare mai, nemmeno quando credi di dover mollare per forza. Tu non mollare mai, però vedrai che poi non è nulla, non è nulla, no, assolutamente no, nulla di grave, nulla che non si possa sistemare o mettere a posto. Chiudi gli occhi serenamente, rilassati. Ehi, ciao! Come stai? Va tutto bene? no? credi di no? dici di no? allora no, non ti devi assolutamente preoccupare devi allontanare l'idea di te che le cose non vadano bene no, 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 non c'è niente che può scalfirti, ricordalo non ti fa scalfire da nulla andrà tutto bene? certo andrà tutto a posto se le cose adesso ti sembra che non vadano come vorresti ricordati che arriverà il tempo in cui ogni cosa girerà per il verso giusto si, ne sono sicura andrà tutto bene? stai tranquilla? si? ricorda sempre che meriti tanto 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 amore meriti tanta pace che pensieri che ora hai con la scuola o con il lavoro di preoccupare si risolverà tutto si risolverà tutto devi solo essere più paziente cerca di stare un attimo più tranquilla 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 si, si, non ti preoccupare si, si, non ti preoccupare tutti i problemi si risolveranno resta serena resta tranquilla no, non ti agitare vedrai, vedrai che le cose si mettono al loro posto ti ho detto prima le cose le devi far avvenire no, non potrai sempre no, non potrai sempre non decidere di dover avere per forza il controllo della situazione su ogni cosa non possiamo avere il controllo su tutto stai tranquilla stai tranquilla stai tranquilla che tutto 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 andrà bene esatto, certo ti garantisco che si sistemerà ogni cosa non preoccuparti non preoccuparti ci sono qua io non preoccuparti ci sono qua io no, no, assolutamente non temere non temere ci sono quei andrà tutto bene ogni cosa ogni cosa tornerà al suo posto ogni problema lo risolverai con tanta forza d'animo tanta 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 consapevolezza tranquilla lo risolverai andrà tutto per il meglio in fondo è sempre stato così lasciati accarezzare il viso lasciati accarezzare il viso sì, lo so, lo so, certe cose possono dare pensieri, certi impegni possono dare pensieri, anche giusto, certo però vedrai che poi non è nulla, non è nulla, no, assolutamente no, nulla di grave, nulla che non si possa sistemare o mettere a posto chiudi gli occhi serenamente, rilassati ci sono qualche rassicurante, rasserenante, sì, ti rasserenerò e beh sì, è il mio compito questo cosa c'è? cosa c'è? non ti fidi di me? o pensi che le cose andranno bene? andrà tutto 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 molto 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 bene sì, io me lo ripeto spesso quando ho qualche pensiero che mi frulla nella testa sì, qualche piccolo pensiero negativo ce l'ho anch'io, non è che non ho i miei momenti tristi, ce li abbiamo tutti i momenti tristi ma ripeto a me come sto facendo con te che tutto andrà bene tutto, 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 proprio tutto andrà bene magari ci vorrà un po' dipende dalle situazioni, dalle persone, le cose ma le cose si sistemano eh certo, certo, sì, ne sono più che convinta e devi convincerti anche tu di questo non mi piace vedere quel faccino col bronzo no, 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 ti voglio sorridente sì, ti voglio assolutamente sorridente esatto, prova sorridente ecco sì, perché dobbiamo fare in modo che le cose vadano bene anche quando ci sembra che vada tutto male o qualcosa realmente sta andando male noi dobbiamo sempre noi dobbiamo sempre noi dobbiamo sempre e dico sempre fare in modo di avere un atteggiamento positivo davanti alle cose, ecco esatto, esatto, esatto certo, certo, certo ti senti più tranquilla? sì, no, ti ho detto anche a me capita di fare dei pensieri tristi di avere dei pensieri un po' cupi su alcune dinamiche che avvengono nella mia quotidianità, diciamo e però faccio sempre in modo che io resti positiva cioè io voglio restare positiva quindi un atteggiamento positivo può portare solo che benefici e vantaggi di fronte a a qualsiasi cosa poi in fondo, no? ok lo so, lo so, lo so lo so, lo so che questo non è un periodo facile lo so, lo so e io non sto dicendo che sia facile superare ma bisogna sempre tenere duro perché ce la puoi fare ce la devi fare esatto ce la puoi fare sì sì esattamente devi tenere sempre 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 duro in ogni occasione che la vita ti pone sempre sempre in ogni istante devi tenere sempre duro non mollare non mollare mai nemmeno quando credi di dover mollare per forza tu non mollare mai assolutamente non farlo mai è la cosa più sbagliata il morale sempre su sempre su e ricorda che per sollevarsi ci vuole il sostegno delle altre persone ma i primi su cui bisogna contare non dobbiamo mai dimenticarcelo dobbiamo essere noi stessi da qui da qui dentro si costruisce la nostra forza esatto che quella che poi facciamo vedere agli altri diamo modo di vedere gli altri esatto non ti preoccupare andrà tutto bene andrà tutto quanto bene andrà tutto quanto bene l'insicurezza o i bassi livelli di autostima dobbiamo cercare sempre di trovare in noi la forza per riprenderci per regalare quella stima a noi stessi che tanto meritiamo e togliere quell'insicurezza che proprio non meritiamo dobbiamo essere più sicuri di noi o quantomeno cercare di esserlo questo è il consiglio più grande che ti posso offrire che ti posso dare oltre a dirti che meriti tutto 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 l'amore di questo mondo tutto 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 l'amore di questo mondo meriti meriti amore meriti pace meriti abbondanza meriti meriti luce meriti meriti serenità e tanta gioia intorno a te meriti davvero solo solo tante cose belle meriti ora va prendi la tua vita in mano sii più serena rallegrati sii felice io sarò qui ogni volta che avrai bisogno di me ricordatelo sempre ti abbraccio forte 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 sono sempre vicino a te ciao tesoro mio abbi cura di te bene 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 bene